Il G7 è finito e l'elefante è uscito dalla cristalleria lasciando intatta solo una piccola parte della mercanzia. La fiducia reciproca tra alleati che non c'era non è stata ricostituita. Il resto è finito in frantumi. È stato evidente che questa Europa è mediamente più americana del presidente degli Stati Uniti in carica, nel senso che la preferenza dei leader europei andrà rivolta più di prima del suo arrivo ai nemici interni di Donald Trump. Gli strilli di Donald Tusk, dei Baltici, di Stoltenberg, di un pezzo dell'elito bambiane d'Europa circa la minaccia russa, sono scivolati nel borbottio. Le sanzioni contro la Russia, che mezza Europa, capitanata dalla Merkel, vuole procrastinare, sono diventate di fatto piuttosto materia europea che americana. Insomma, cavatevela da soli, io non c'entro. Donald Trump pensa ad altro, a evitare l'impeachment. Tant'è che fin dal viaggio di ritorno in patria, la raffica di tweet che è partita dall'aereo presidenziale è stata quasi interamente dedicata ai produttori di fake news, ai nemici che si annidano nei mainstream media. La Casa Bianca va ai materassi, scrive il Washington Post. Gli uomini di Donald Trump si preparano a riorganizzare lo staff, mentre in Europa c'è chi punta, la Merkel in prima fila, sull'ipotesi che l'elefante sia messo fuori gioco. Ma il fatto stesso di un impeachment rappresenterebbe un colpo durissimo all'immagine degli Stati Uniti nel mondo. Ed esso dovrà essere compensato da una riorganizzazione delle forze occidentali, con l'apparire di un forte partner europeo, con accresciute responsabilità internazionali. In ogni caso, mentre Washington si intensificherà la battaglia per togliere di mezzo il Presidente, che non piace ai padroni universali, il panorama europeo sembra destinato a mutare. Senza dimenticare che l'offensiva globalizzatrice di Xi Jinping, con la fascinosa Una cintura, una strada, è stata Taormina il convitato di pietra. Verrà il momento in cui molti dei capi di Stato e di governo riuniti sia Taormina, si troveranno vicino alla fermata occidentale della Via della Seta. E allora potrebbe essere difficile dissuaderli dall'entrare nel negozio. A Taormina il Presidente USA Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno cancellato le rispettive conferenze stampa finali. Donald Trump, seppure con la spada di Damocle del Russiagate, sembra tornato a Washington con una convinzione. Gli Stati Uniti devono rinunciare agli accordi di Parigi sul clima. E a Monaco Angela Merkel annuncia la svolta. L'Europa deve riprendere il proprio destino nelle sue mani. Non possiamo più contare sull'America. Priorità il rafforzamento dell'asse Berlino-Parigi. Secondo il Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, nel nuovo progetto Grand Hotel Europa firmato Merkel, Berlino potrebbe consentire a sconti da parte della Commissione europea sulle regole di bilancio, come il 3% del disavanzo, dinanzi a riforme strutturali o a shock finanziari o economici particolarmente gravi. Confermata anche la disponibilità tedesca a cambiare i trattati. Una Germania First in Europa sarebbe quindi il seguito quasi obbligatorio della fine dell'America First di Donald Trump. Ma un domenio predatorio tedesco fondato sull'euro riaprirebbe in modo lancinante la crisi dei rapporti inter-europei. Prima vittima di questo rimaneggiamento sarà l'Italia. Ma tutti gli amici dell'America prima di Trump si troveranno di fronte al problema di accettare un secondo padrino, appunto quello tedesco, che non promette una difesa sufficiente e che si è già fatto abbondantemente notare in questi anni per una certa inclinazione alla prepotenza dei più forti. Divisi su tutto, il gruppo dei sette a Taormina mostra piena sintonia su nuove sanzioni, in caso di necessità, contro Pyongyang, accusata di porre una minaccia seria alla pace e alla stabilità internazionale. Tutti si dimostrano anche profondamente preoccupati per la situazione nel marcinese meridionale e orientale, al punto da voler risolvere le dispute territoriali attraverso il diritto internazionale e l'arbitrato. A quanto pare, i leader del G7 potrebbero essere coesi soltanto contro un nemico comune. Non tarda ad arrivare la reazione di Pechino, che vede nella posizione dei sette grandi un'ingerenza esterna nella questione delle isole contese e auspica che tutti si mantengano neutrali e rispettino gli sforzi compiuti dai paesi della regione. Tuttavia, è chiaro che ad almeno un leader del G7 il ruolo dell'osservatore va stretto. Infatti, domenica 28 maggio, Pechino ha esortato Washington a interrompere immediatamente ogni provocazione nel mare cinese meridionale, dopo che un caccia torpediniere statunitense si era avvicinato all'arcipelago delle Spratly, rivendicate dalla Cina. Gli Stati Uniti hanno inviato nel Pacifico occidentale un terzo gruppo da battaglia, quello della portaerei Nimitz. Le navi statunitensi si uniranno ai gruppi da battaglia delle portaerei Carl Binson e Ronald Reagan, già impegnate nella regione nel contenimento della Corea del Nord. Secondo Voice of America, che cita fonti anonime, si tratterebbe di uno dei rari casi in cui tre portaerei statunitensi si trovano contemporaneamente nel Pacifico occidentale. Nel frattempo, la Corea del Nord ha testato con successo un nuovo sistema di difesa antiaerea per intercettare droni e missili nemici. Soddisfatto delle perfezionate capacità di rilevazione, inseguimento e distruzione degli obiettivi, sabato scorso il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato la produzione in serie dei sistemi missilistici e il loro dislocamento in tutto il paese. Intanto, domenica 28 maggio, Pyongyang avrebbe testato un nuovo missile balistico, che per Tokyo sarebbe caduto nella zona economica esclusiva del Giappone. Il premier giapponese Shinzo Abe ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale e ha promesso che con gli Stati Uniti verranno prese misure concrete per dissuadere la Corea del Nord. Mosca, pur esprimendo preoccupazione per lo sviluppo degli eventi, ha invitato la comunità internazionale a esercitare moderazione nella sua risposta. Cambiamenti strategici in Siria A partire da giovedì scorso, l'esercito siriano ha sottratto ad Aesh un vasto territorio a sud di Palmira, per una superficie complessiva di quasi 3000 km2. Successivamente, l'aviazione siriana e quella russa hanno aperto il fuoco sulla colonna dei terroristi in fuga. Intanto i kurdi, sempre più vicini a Rakka, sono impegnati a combattere i terroristi a pochi chilometri dalla città, assistiti dai bombardieri della coalizione occidentale. Quest'ultima, però, non si limita ai tagliagole. Sabato 27 maggio, 20 civili siriani hanno perso la vita in un raid della coalizione su Rakka, mentre l'attacco aereo del 25 maggio in provincia di Deir ez-Zor aveva ucciso 35 civili. A tale proposito, il governo siriano ha inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, esortandolo a fermare le azioni illegali della coalizione internazionale a guida statunitense sul territorio siriano. Per il senatore russo Franz Klintsevich, l'uccisione di civili a Rakka merita un'indagine altrettanto accurata quanto quella dell'attentato a Manchester. E' morto Brzezinski. Polacco fu il più influente russofobo della seconda metà del secolo XX. Il più accannito assertore della necessità, per l'impero, di distruggere la Russia, prima come Unione Sovietica, poi come Russia. Grazie a lui, ai suoi scritti, alle sue azioni pratiche, abbiamo potuto capire la straordinaria ferocia con cui l'Occidente ha perseguito, e persegue, i suoi piani di dominazione mondiale. E' stato utile all'umanità, se così si può dire, solo in quanto ha potuto esprimere, meglio di chiunque altro, i suoi lati più aggressivi e primordiali. L'Estonia ha ordinato l'espulsione di due diplomatici russi, il console generale della Federazione Russa Narva Dmitry Kazionov e il console Andrei Surgayev. Per il Ministero degli Esteri Russo si tratta di un ulteriore atto stile, non giustificato, che non resterà senza risposta. Secondo l'Agenzia di stampa estero e delfi, i diplomatici sarebbero sospettati di spionaggio o altre attività non autorizzate. Per la presidenza della Camera pubblica della Federazione Russa per lo sviluppo della diplomazia e il sostegno dei connazionali all'estero, l'Estonia avrebbe spulso i diplomatici russi su disposizione dei referenti americani. Sabato 27 maggio, la Cina ha attivato un nuovo sistema satellitare di navigazione e posizionamento, il più grande della Repubblica Popolare Cinese. Comprende 2700 stazioni base, una banca dati nazionale e 30 banche dati provinciali, ed è compatibile con altri sistemi analoghi, tra cui l'americano GPS e il cinese Beidou, il cui completamento a livello globale è previsto per il 2020. In questo modo, Pechino si augura di migliorare notevolmente l'organizzazione e la regolamentazione del traffico nelle grandi città. Terzo giorno di caos all'aeroporto londinese di Heathrow, in seguito ad un guasto sistema informatico di proporzioni mondiali. Migliaia di persone soffrono il disagio di cancellazioni e ritardi. Disagi anche a Gatwick, dove però i voli sono ripresi ieri. La compagnia si è frettata a dichiarare che non si tratta di un attacco cyber, bensì di un guasto all'alimentazione elettrica. I sindacati accusano e dicono che la causa del problema potrebbe essere nell'aver dato in appalto a terzi il sistema informatico. La compagnia britannica è parte del gruppo IAG, il più grande d'Europa. L'incidente potrebbe costarle decine di migliaia di sterline. IAG, il più grande d'Europa. L'incidente potrebbe costarle decine di migliaia di